Raga, allora, questo è un video estremamente breve perché volevo dire semplicemente che i video che avete visto a gennaio e a febbraio, quelli del venerdì, sono praticamente fatti e registrati prima della programmazione, cioè prima della vecchia programmazione, tra virgolette, e quelli del, questo mi sa che è una rubrica che uscirà o il lunedì, questo video uscirà di domenica, già lo so, e quelli invece del lunedì sono dei video che sto registrando qua in Germania. Molto importante questo perché si stanno combinando due tipi di programmazione, una vecchia e una già più nuova. Però avevo detto in un precedente video, e lo ripeterò in quelli che ho già caricato, che io abbinato sto facendo vecchia e nuova programmazione insieme, sto facendo praticamente questo mix perché qua effettivamente ho poco tempo, quindi quando ho un'oretta, un'oretta e mezza per registrare, per lo più di mattina, presto tra virgolette, o comunque quando ho un pochettino di tempo libero, di domenica per esempio, che non studio o non lavoro, mi registro qualche video in più, così lo trovo già caricato per la prossima volta. I video che state arrivando registrati, già l'ho detto, sono dovuti al fatto che ero libero in quel periodo e ho registrato molto e li sto caricando piano piano. Invece questi video già della programmazione di gennaio-febbraio del lunedì parlo, gennaio-febbraio, sono più nuovi. Da domani, che dovrebbe essere lunedì 2 marzo, troverete praticamente dei video della vecchia programmazione, appunto quelli che ho registrato prima di venire qua, e troverete soltanto vecchia programmazione. Però, però, in abbinamento farò uscire una rubrica extra, o il mercoledì, o il giovedì, insomma, devo trovare una collocazione, o anche la domenica, per esempio, dove tratterò gli argomenti registrati quindi qua in Germania, quindi una rubrica molto molto più nuova rispetto agli altri. Quelli mi piacevano come video, sinceramente, e quindi vi volevo portare lo stesso. E poi, insomma, continueremo con la programmazione classica. È un periodo che durerà da marzo, aprile e maggio, più o meno, no, marzo e aprile è soltanto, il nome si dice pure maggio, e invece questa programmazione, insomma, uscirà, questi nuovi video, insomma, della Germania, un video dei tedeschi, li chiamiamo così, così c'è un modo di commentare più o meno dove li ho registrati, dove li ho collocati, usciranno comunque verso, usciranno sempre in parallelo alla programmazione del venerdì e del lunedì, però devo trovare un giorno e una settimana. Ok? Quindi ragazzi, da domani, programmazione, di nuovo nella mia vecchia camera, non perché sono tornato a Crotone, ma perché effettivamente sono dei video che ho registrato prima di partire, però appunto mi piacevano gli argomenti che trattavo, e alcuni li sto già approfondendo adesso, altri li approfondirò più avanti, però ragazzi, che dirvi, buon allenamento da InSport, e un attimo che mi avvicino per fare l'altro, sì, dietro vedete tutto lo lustro, e questo è quello che vedo da casa mia, un cassonetto, verde, boscaglia, bella, mi piace, dai, tutto sommato, tutto sommato si sta bene. Ok ragazzi? Eh, grande! Buon allenamento ragazzi! Ciao ciao!